Palloni ai bambini, punti allo spezia, questa è la sintesi della partita. È una partita nella quale i giocatori non hanno dimostrato di avere la condizione fisica per poter fare i playoff, è questo che mi preoccupa. Perché non ha la condizione fisica, la condizione è tutto per giocare a pallone. Se non hai le gambe che ti reggono in piedi, puoi avere le migliori idee di questo mondo, non puoi da nessuna parte. Mi indegno, è 90 minuti, un giro solo a 46. Facciamo il chilometro per vedere questa difesa. Penso di aver assistito alla partita meno emozionante della mia vita del Palermo. Ne ho viste tante brutte partite. Non ho capito cambiare uomini, cambiare moduli, a cosa serve se poi giochi contro uno stesso e qualsiasi e non riesci a creare occasioni. Vero, questa squadra fu una cosa, non ho visto tanta quantità di Elia, di Matteo. Matteo forse conosceva bene troppo, bene i suoi compagni, ha fatto un'ottima partita, lo stesso perde, tanta quantità. La partita si è conclusa con il risultato giusto. Non so cosa abbia da dire ancora questo campionato, veramente poco, veramente poco perché abbiamo già detto tutto. Quindi non vedo l'ora che fiscare questo campionato, si arrivi ai play-off e da lì ci muoviamo. Forza Palermo. L'ha amareggiata troppo, abbiamo fatto salvare l'ospezio perché a loro serviva come il pane questa vittoria, però noi purtroppo dobbiamo applaudire lo stesso, però non siamo niente soddisfatti. Non doveva andare così, pazienza, è andata. Partita bruttina, anche visto il campo un po' pesante, però ce la potremmo fare, è una partita da pareggiare, almeno da pareggiare. Grazie.